Con il marchio Renault Prime vogliamo rendere visibile a tutti l'eccellenza dei prodotti e dei nostri processi per la vendita di auto usate. Selezioniamo solamente auto di qualità scrupolosamente controllate in ogni loro dettaglio e perfettamente ricondizionate. Negli showroom di Renault di San Giovanni, Monza e Milano via l'emissaria è possibile vedere di persona e provare centinaia di auto. Oppure sul sito web Renault.com sempre aggiornati in tempo reale con possibilità di bloccare la vettura preferita tramite un versamento con carta di credito. La proposta di Renault Prime prevede un'offerta flessibile, un ventaglio di soluzioni che ha come punto di forza la possibilità di integrare nel finanziamento servizi assicurativi e garanzie regalando quindi al cliente un'esperienza di acquisto serena e trasparente. Con il programma Salva Franchigia per esempio è possibile ottenere il rimborso anche della quota parte a carico dell'assicurato. Infine Renault offre anche la possibilità di valutare gratuitamente il proprio usato in meno di tre minuti. Potrai vendere la tua auto alla migliore quotazione senza l'obbligo di acquistare un'altra.